Negli scorsi mesi gli sviluppatori di Facebook hanno lavorato, tra le altre cose, su alcuni sistemi di intelligenza artificiale, agli, capaci di dialogare tra loro in inglese e condurre semplici trattative, per esempio quelle per dividersi due libri, tre palloni da basche, e un cappello da cowboy. A un certo punto hanno assistito a un fenomeno imprevisto. I due sistemi di intelligenza artificiale hanno cominciato a parlare in un nuovo linguaggio, inventato da loro. Per chi conosce l'inglese, il dialogo a un certo punto è diventato così.